andremo a fare una e nico però dobbiamo continuare con la di ieri stiamo tre perché quella del 4 non l'ho validata bravo ti sei piaciuto e vai grande questo attacco mi è piaciuto io speravo che tu mettevi sta carta no dai grande vai stregone mio vai stregone ma dai neanche troppo danno cosa? neanche troppo danno dai eh però il suo l'ha fatto vai come vai muori hai sbagliato no 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 e vai nico ma dai però stiamo 4 a 0 però dai E che vuoi io pure Io giocavo sembra a Brawl Stars E io pure Facciamo Intanto dobbiamo fare Compa dobbiamo fare l'ultima per vedere che è più forte Ah giusto ma me già sei tu Già ma no Stiamo 4 a 0 Bene io ho sia attacco che difesa Bravo io pure Certo faccio il concomodo Io ti giuro all'inizio avevo paura Tipo che mi distruggessi Invece no Invece Io te aspetta Prima quelli più grandi Ah ma gioca No vai tu Già 51 50 49 Vabbè ma noi a contare raga Raga Capito che sto La pratica Io non capisco la mia mia Ma non parlo Non gioca No no Vado 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 Siamo Bollon Che diceva che Voleva essere salutato Se non mi sbaglio Sì Quindi ciao Bollon Ciao Bollon È un piacere Averti Nel nostro canale È un piacere Siamo 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 Il tempo sta finendo? Ya No Ma dai, io sto finendo il tempo No Si invece, muori Tu muori male Se dico che muori male, muori male, ho detto Non ci credo, non ci credo Dai E vai Ce l'ho fatta Vabbè ragazzi Raga Anche se Uso la mia tattica Anche se stavolta non l'ho usata Sapete ormai chi è Il migliore tra me e Nicolo Vabbè Non ci gioco mai Bene raga, ci salutiamo qui e alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.